L'iglu che si è formata sta proteggendo il fiore della mela golde ruggine valdichiana. Questo ghiaccio la protegge dal meno, quindi dal sotto zero. Noi dobbiamo continuare a buttare acqua sopra per garantire questo scambio termico e proteggere questa qui. Si vede il fiore rosso però subito sotto il fiore c'è la melina. Nei frutteti della valdichiana è così scattato nuovamente il piano antibrina. Stiamo cercando di proteggere la frutta della valdichiana dalle gelate di aprile. Il termometro nella notte è infatti precipitato a diversi gradi sotto zero. Così per proteggere gemme e fiori dal ghiaccio è stato necessario attivare da parte delle aziende il sistema. Quando le temperature si avvicinano intorno allo zero, scendono sotto lo zero, c'è il rischio di gelate. Soprattutto in questo periodo quando le piante vengono fuori già da riposo vegetativo, quindi hanno gemme, fiori, il rischio dei danni dal gelo è altissimo, quindi mina la produzione. Mentre invece praticando quello che viene chiamato il soccorso antibrina, quindi irrigando su queste gemme, si crea, con le temperature che si abbassano, come uno strato isolante, quindi uno strato di ghiaccio che le preserva. L'acqua di Montedoglio è stata così utilizzata per tentare di salvare produzioni e raccolti dal freddo intenso che rischia di mettere K.O. gli impianti e azzerare le produzioni. Un pericolo reso sempre più concreto e reale dai cambiamenti climatici. Dieci, quindici anni fa si andava molto meno sotto zero e poteva essere una, due volte nel decennio che veniva attaccata l'antibrina. Ora purtroppo gli ultimi anni sono quelle due, tre, quattro, qualche anno fa abbiamo fatto anche undici antibrine. È una cosa insostenibile economica per le aziende perché le aziende l'acqua la pagano, anche quella della diga viene pagata, però grazie che ci sia.